Allora il presidente Carbone aveva qualcosa da dire. Prego presidente, a lei la parola. Oh Gesù, Gesù. E questo che cos'è? Ma che cazzo è questo? Che cos'è questa palla di lardo? Signore, ciambella con crema, signore. Una ciambella con crema? Signor, sì, signore. E come ci è arrivata qui? Signore, l'ho presa alla messa, signore. È permesso portare vivere in camerata a palla di lardo? Signor, no, signore. Sei autorizzato a mangiare ciambelle con crema in camerata a palla di lardo? Signor, no, signore. E perché no palla di lardo? Signore, sono in sovrappeso, signore. Perché tu sei un ciccione ributtante e fai schifo, palla di lardo? Signor, sì, signore. E perché hai nascosto la ciambella con crema dentro la tua cassetta, palla di lardo? Signore, perché avevo fame, signore. Come eravamo lignano sotto la cid. Ho la testa di cazzo come te che al mondo incrementano la razza dei ladri. Ho la testa di cazzo come te che al mondo incrementano la razza dei ladri. Ho la testa di cazzo come te che al mondo incrementano la razza dei ladri.